Salve a tutti ragazzi, benvenuti qui ad una nuova video recensione Oggi avremo a disposizione un prodotto che può essere utile soprattutto a vari utilizzi tra cui l'utilizzo di chi pratica lo sport della caccia, di chi pratica la simulazione di guerra tipo paintball o soft hair oppure comunque vi presenterò un prodotto utile anche per i vari lavori ad esempio tipo una guardia giurata o chi per lui comunque che ha bisogno di molte tasche e può viaggiare anche armato fondamentalmente il prodotto che abbiamo a disposizione è questo qui il classico cinturone che viene utilizzato, prendiamo ad esempio la guardia giurata dove deve conservare varie cose eccetera andiamo per ordine allora si presenta un gran cinturone con una grande, non so come si chiama questo oggeggio per poter chiudere o aprire la cintura e fissarla lungo i nostri fianchi è molto solido, molto grande quindi comunque sicuramente un ottimo prodotto allora andiamo piano piano, qui abbiamo la possibilità di conservare qualsiasi cosa ci può tornare utile ed è una tasca sia a strappo che col bottone quindi molto più sicura abbiamo questo taschino qui che è lungo dove si possono conservare non lo so qualsiasi cosa un altro taschino quindi uno, due, tre, quattro passiamo al quinto taschino sempre grande a strappo e a bottone per la sicurezza poi questo qui che sembra una specie di taschino dove abbiamo una borraccetta e la possiamo infilare e si conserva per bene si può allargare o stringere quindi in base alle dimensioni di cosa vogliamo portare qui si può conservare per bene anche perché c'è questo elastico che può fissare bene alla cintura e non far cadere tipo la bottiglietta abbiamo qui un tipo porta chiavi dove possiamo attaccare le chiavi che ci possono servire un altro taschino un altro taschino e poi qui fondamentale e utile per appunto i lavori che abbiamo detto oppure per i lavori e per gli sport che abbiamo prima nominato una fondina per la pistola fondamentalmente quindi c'è le varie sicure eccetera eccetera quindi un ottimo prodotto soprattutto per chi pratica ripetiamo lavori come una guardia giurata o robe del genere oppure chi pratica soft air, paintball oppure semplicemente abbiamo bisogno di una tasca di una cintura multitasking questa qui è utilissima la particolarità è che aprendo questa cinturone il cinturone possiamo scegliere cosa togliere o meno dalla cintura quindi in base alle nostre esigenze possiamo sfilare tranquillamente senza alcun problema i vari componenti della cintura e niente quindi la possiamo personalizzare in base alle nostre esigenze per oggi è tutto quindi questo cinturone potete trovare ad un ottimo prezzo il link è in descrizione per acquistarlo su Amazon spero che la recensione vi sia stata utile e ci vediamo ad un prossimo video ciao ragazzi e grazie grazie